Le va una tazza di tè prima di andarsene? No. Caffè? No. Succo di arancia? Forse no. Qualcosa di freddo. Coca, acqua. Una disgustosa bevanda zuccherina che dicono fatta con i frutti della foresta. No. Vuole qualcosa da mangiare? Qualcosa da mordicchiare. Albicocche dentro il miele. Perché le fanno nessuno lo sa, visto che smettono di sapere di albicocca e prendono il sapore del miele. E se uno vuole il miele va a comprarsi il miele invece delle albicocche al miele. Ma comunque, eccoli qui. Sono sue, se vuole. No. Dice sempre di no a tutto. No. È meglio che vada. Grazie per il suo... ...aiuto. Lei è la benvenuta. Vorrei aggiungere... ...è divina. Colgo la mia sola occasione per dirlo. Dopo aver letto quell'orribile libro, certo non tornerà mai più al negozio. Grazie. Sì, beh... ...si immagini. Allora... ...è stato bello conoscerla. Surreale ma... ...ma bello. Mi scusi. ... ...